Musica Qui Diego Dabber21 Uno salve a tutti in questo nuovo video interpito Passpartout nel fine del 1956, Il Giro del Mondo in 80 giorni. Spero che il video vi piaccia, un cipiciatto di fendere il piaccio, il fatico da per 21, da Viseuvo di Mimotto, buona visione, si va a incominciare. Mi scusi, avrebbe un buon pasticcino per un gentiluomo di un gentiluomo, signore? Per lei? Sì, signore. Non bisogna mai cessare di sperare nella divina provvidenza. Come si chiama? Passpartout. Sì, signore. Appartengo ad un'antica famiglia, signore. È evidente. Una carriera piuttosto movimentata, vedo, professore di ginnastica. Sì, signore. Guardi. Niente dimostrazioni, prego. Trapezista, pompiere, spazzacamino. Straordinario. Come sei venuto in Inghilterra? In un cesto di vimini, signore. Sono fuggito. Da cosa? Donne, signore. Un donnaiolo, eh? Beh, non ci sono donne in questa casa. Ora, io sono molto esigente e i miei orari invariabili. Quando dico colazione alle 8 e 24, non la metto alle 8 e 23 o alle 8 e 25. Sì, signore. Hai un orologio? Oh, sì, signore. Andrà certo male. Benissimo. Comportati bene. E questo era il mio dobbiato di Passepartout nel fin del 1996, il giro del mondo in 80 giorni. Spero che il video vi sia piaciuto. Un servizio a tutti i fan di Doppiato. E te lo dico da Ber21, da Best Award, mio motto. E ci vediamo presto con tante nuove video. Come sei venuto in Inghilterra? In un cesto di vimini, signore. Sono fuggito. Da cosa? Donne, signore. Un donnaiolo, eh? Beh, non ci sono donne in questa casa. Una carriera piuttosto movimentata, vedo. Professore di ginnastica. Sì, signore. Guardi. Niente dimostrazioni, prego. Trapezista, pompiere, spazzacamino. Straordinario. Trapezista, pompiere, spazzacamino.